Nel suo paese d'origine, che è il Belgio, viene definito il piccolo diavolo nero, ma è davvero così lo Schiperchi? Partiamo dalle origini. Quando nasce e da dove arriva questa razza canina? Lo Schiperchi è una razza belga, al contrario di tante altre razze che sono state selezionate magari nelle campagne e in situazioni rurali, è un cane che da subito è stato selezionato in città, arriva proprio da Bruxelles, dove era impiegato sia sulle chiatte per la caccia ai topi ed era famoso per essere il cane dei ciabattini, dei conciatori di pelli. Ecco, quindi aveva la funzione quella di andare a caccia di ratti, diciamo qualche caratteristica morfologica, dimensioni, peso, a quanto arriva al garrese? Allora, è un cane piccolo, nel senso che è un cane che fa 30-35 cm di altezza, ma è un cane massiccio, a parità di altezza con altre razze pesa di più, perché comunque pesa, diciamo lo standard dice dai 3 agli 8 kg, ma in realtà su quasi tutti i soggetti pesano tra i 5-7 kg, sono molto robusti. Sono molto robusti e sono vivaci, com'è il carattere del piccolo diavolo nero? Sono vivacissimi, sono dei piccoli cani da pastore, quindi diciamo sono l'equivalente del pastore belga, come il Malinois o il Tervuren, in formato minuscolo. Sono quindi versatilissimi, sanno fare di tutto un po' e sono cani adatti a tantissime attività diverse. Grazie. 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 Grazie.